buonasera e benvenuti da borsali strumenti musicali oggi vi faremo vedere questa bellissima occasione di flauto muramatsu ds si tratta di uno strumento artigianale di veramente grandissima qualità parliamo tra l'altro del modello con la testata subasa quella cui diciamo coi baffetti ultimo ritrovato della muramatsu per una migliore sonorità fuori aperti sol fuori mi snodato discendente al si veramente uno strumento eccezionale le condizioni sono veramente ottime i tamponi sono praticamente nuovi la meccanica è perfetta l'ho comunque diciamo lucidato e registrato nel migliore dei modi per darvi comunque una garanzia sulla perfetta funzionalità in ogni caso il nostro strumento offrirà sempre una garanzia di due anni anche se usato quindi per darvi anche la massima certezza in caso di problemi vi faccio sentire il suono per farvi rendere conto diciamo delle qualità espressive di questo strumento a a Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vi aspetto in negozio ad abborsare strumenti musicali in Rotonda Torri 9BC a Bologna per venirlo a provare e magari portarlo a casa. Ciao!